è come una partenza alla schumacher allora ragazzi la sindrome turretta a volte e anche dentro la no allora la sindrome turretta non è solo tic coprolalia quindi bestemme e tutto quanto è una serie di cose che vivi anche per esempio una di queste è lo scusarsi dentro di sé non ha un senso di vergogna perché quello no però è anche un senso di quando per esempio ecco mo faccio un esempio no lo dico più quando tu stai in un posto stai andando via da un posto no io no stai io quando sto andando via oddimici la coca sto andando via da un posto dico dentro di me cioè rivivo tutte le scene e dico però in quel momento ho strillato però in quel momento ho dato fastidio mamma mia forse oggi ho strillato troppo forse oggi troppo è quello che mi è venuto però forse oggi me ne è uscito troppo capito oggi ho detto tante parole ma quando io ho dato la mano a quella persona mi è uscita questa cosa non mi ricordo perché se me ne accorgessi se me ne accorgessi non lo facessi e quindi magari per esempio che ne so vedi una persona che non hai visto mai o può essere chiunque non è che deve essere un'autorità una persona qualunque che non hai visto mai dico oddio però magari in quel momento ho strillato che impressione ha avuto di me perché magari cioè te li fai questi cazzo di di film mentali cioè io per esempio me li faccio no te li fai io me li faccio ti fai questi film è come una non so spiegarvi bene come una ma no non è un senso di vergogna perché io non mi vergogno oggi di avere da tanto tempo però diciamo oggi per dire così di avere questa cosa anzi però ecco per esempio molto confusa e felice l'altro giorno ecco sono andata alla proloco e ci stava parecchia gente di cui anche cioè io avanti al prete per esempio ormai ho preso confidenza non dico quello che dico capite ci mancherebbe però se non capisce lui però per esempio c'erano delle persone che non avevo mai visto tipo il sindaco tipo altre persone che erano venute per il ballo che non avevo mai visto io ho detto ma in quella circostanza come sono stata cioè poi ti rifai queste cose oppure quando mi dicono sabri però oggi sei stata bene sei stata bene io dico ma forse lo dicono perché non ho fatto tanti tic ecco questo oppure dico oddio mi sono andata in quel posto ne ho fatti tanti oggi stavo proprio nervosa e magari ho disturbato ecco questa parola che non mi usciva cazzo ho disturbato e ti fai mi faccio oppure questi problemi che disturbo questa è la cosa che mi fa male perché poi dico cioè mi fa male mi disturba un po' disturbare ecco mi disturba un po' disturbare e dico ma cazzo pur disturbo ma che le faccia poi però mi viene questa cosa sì di di disturbare le persone ecco questo sì ciao stamane non si ferma